E what's up, tutti ciurma qui da Giocherina in questo video. Volevo condividere con voi ragazzi questa cosa che ho scoperto effettivamente oggi grazie a Cristian che sarebbe Crazen, mio iscritto, fan, sponsor, amico prima di tutto, qualsiasi cosa, che ringrazio e saluto sarebbe a dire ragazzi che sul sito a cui sono iscritta, attraverso il quale si può diventare appunto mio sponsor sarebbe a dire donando una cifra fissa al mese, praticamente ragazzi quelli del sito hanno messo un'opzione che permette a chiunque, anche a chi non è sponsor, semplicemente facendo l'accesso attraverso Facebook o per esempio attraverso l'account di Google, appunto ha permesso di farsi ragazzi che visualizzando dei video musicali mi si mandino dei soldini, diciamo soldini ragazzi perché praticamente si tratta di un centesimo per ogni 30 secondi di visualizzazione ai video che mi rendo conto è una cifra veramente molto irrisoria però in ogni caso ragazzi praticamente significherebbe donarmi qualcosina senza dover appunto aprire il proprio portafoglio cioè praticamente ragazzi mi donereste dei soldini semplicemente visualizzando dei video attraverso il sito ovviamente il sito ragazzi ve lo metto qua in descrizione e potrete notare poi nella barra laterale destra un piccolo lettore video sopra il quale c'è scritto i support giocherina quindi io supporto giocherina quindi cliccando ragazzi su watch video vi si aprirà una finestra nera in cui sono presenti tre video musicali da poter visualizzare ovviamente cliccando sul video quest'ultimo partirà quindi si metterà in riproduzione e vedrete sotto ragazzi una piccola barra che si va riempiendo sarebbe a dire che appunto ogni 30 secondi di visualizzazione di quel video mi donerete un centesimo quindi ovviamente se visualizzerete tutto il video ragazzi mi donerete 5 centesimi con il primo video poi se non sbaglio con gli altri due video 6 centesimi per cui mi rendo conto che è una cifra veramente molto piccola però ragazzi un granello di sabbia qua un granello di sabbia là comunque poi si magari si viene a creare una spiaggia per cui se doveste volermi ragazzi supportare in maniera totalmente gratuita perché è così che è praticamente semplicemente ascoltando un po' di musica questo qui è il modo in cui potete farlo vi ho già spiegato poi come funziona il tutto se doveste volermi supportare ancora di più magari riguardando i video sappiate che ovviamente dovrà passare un'ora ragazzi di tempo tra una riproduzione e un'altra perché sennò ovviamente uno sarebbe continuamente lì a guardare i video insomma per mandare i centesimi hanno trovato il modo insomma diciamo di rallentare un pochettino questa cosa mettendo un tempo di un'ora fra una riproduzione e un'altra per cui che ne so se doveste guardare ragazzi i video una volta e magari vi dovesse poi rivenire in mente che potete fare questa cosa potete farla quindi potete comunque ripetere la riproduzione del video per mandarmi sempre queste piccole cifre in maniera totalmente gratuita è un modo diciamo abbastanza carino comunque per far sì che magari fan anche che non possono fare donazioni comunque donino qualcosa insomma alla persona che seguono voi potete farlo ragazzi senza sborsare un centesimo di tasca vostra potete far sì che insomma io riceva queste piccole donazioni semplicemente visualizzando questi video per cui ragazzi se mi volete supportare così in maniera gratuita guardando questi video potete farlo io ringrazio comunque chiunque dovesse voler spendere appunto un po' del proprio tempo per questa cosa trovate il link in descrizione comunque la descrizione dovrebbe essere stata abbastanza chiara io vi mando un bacione enorme vi voglio bene ragazzi e ci vediamo col video di oggi alle 19 un nuovo episodio su child of light ciao ragazzi vi voglio bene un bacione